Ciao a tutti amici, benvenuti su Empires Apart, un nuovo gioco sviluppato da una casa italiana. È la prima volta che lo apro, quindi direi che lo apro insieme a voi. È piaciuto molto questo gioco perché era un simile di Age of Empires, degli Age of Mythology, Age of Empires. E chi ama questo genere di RTS in cui tu devi costruire la tua città, un proprio esercito, quindi le risorse, potrebbe essere anche un bel gioco. Questo gioco mi ha dato molta fiducia, non solo perché è fatto da una casa italiana, ma anche perché mi ricorda molto quei vecchi giochi, no? E allora, perché non partire dal tutorial, non partiremo insieme e vediamo un po' come ci guida in questo gioco. Una selezione di unità, una grafica molto... che a me tutto sommato piace, non è male, è godibile da vedere. Giovanna d'Arco, bene. Quindi ci sono tipo, se non sbaglio, 4 o 5 fazioni, ovviamente dovranno sempre amponeare il gioco, bisogna vedere, si aggiungeranno sicuramente altre fazioni. Però dobbiamo abbassare il volume. Ok, ecco qua, come potete ben vedere, è molto simile a Age of Empires con questo centro città al centro, con i quattro abitanti, quindi adesso dobbiamo gestire i nostri... i nostri abitanti, insomma. Quindi, un classico di Age of Empires che però si mostra comunque nel suo piccolo affascinante, e con questa grafica che tutto sommato non è male, con un ritmo che in questo momento sembra un po' lento, in questo caso. Vabbè, c'è un limite di alloggiamento, giustamente, quindi dobbiamo costruire delle case, oppure in francese qua, le maison. Andiamo con alcun altro, ovviamente. Come potete ben vedere c'è il settore economia, c'è il settore militare, ovviamente la difesa. E poi qua puoi riparare gli edifici. Per il momento, puoi sapere che ci sono le case, i magazzini, le fattorie, il centro città, cioè questo. Poi c'è questo porto. Poi ora qua abbiamo solo un quartiere, cioè una caserma, per le nostre unità. Poi ci sono le panizzate, gli avamposti, che fanno solo vedere la zona, e poi ci sono le torri, va bene. Tutti devi andare a prendere la legna, perché se no, su. Vediamo se possiamo continuare ad esplorare, penso di no. Ma dobbiamo raccogliere 400 di legno, ma ok. Ah no, si continua, ok. Una reliquia. Beh, ora bisogna vedere però se, in questo gioco, se come Age of Empires, nel senso, in Age of Empires 2, se tu raccoglievi tutte le reliquie, potevi vincere la partita. Se ne tenevi, tutte quante. Tutte 4, T5, tipo. Mentre, Su, invece, si dice, Su e Giofmitogli, nei nemico, non servivano per, cioè se tu le conquistavi tutte, non vincevi la partita, ma ti davano molti bonus, per i tuoi abitanti, per i tuoi edifici, o per le tue unità militare. Vediamo un po' come evolve il gioco. Forse si può anche aumentare la velocità, ma non penso, che se no, l'avevo visto. Il tessinamento. Il tuo cuore preferito? Ti guarda, il bersin rosso. Vediamo un po' di rosso com'è. Vabbè, adesso non cambia, vabbè. Quanto c'è il tuo cuore preferito? Questa cosa è bellina, dai. C'è il tuo cuore, così. Ok. Nel nemico ha tremendo le possedute. Ah, ok, tu ottieni bonus in base. Nel nemico che non avevo visto. Per un nemico ha più uno di danno. Ok, bene. Quindi ci sono dei bonus come su Age of Mythology. Va bene. Ok. Ci sta, ci sta, dai. Non hai male. Ok, tu hai costruito una caserma, bravo. Pantene di base. Facciamolo già uno. Tu mi raccogli una negna. Visto che le dobbiamo raccogliere 400 di negna. Un giorno è un endo. Ah, è un endo. Quindi adesso vediamo un po'. Ok, c'è anche il custodio qua per portare l'unità da una parte. Vediamo un po'. Ok, non è male. Non è male neanche la grafica, però tutto sommato, dai. Le rompe sembrano fatte bene. Poi, con il zoom, si oscura un po' di più. Ma ok, dai. Non male. C'è anche... La rotazione giorno-notte, pare. Hm, interessante, dai. Ok, il fatto delle case è come su... Age of Empires. Ogni casi da 5 di popolazione. Ok. Gli sensi ne possono costruire infinite o no. Perché su Age of Empires non si può. C'è solamente 10, che poi ci sono in 100 città. Mentre su Age of Empires mi sembra che c'è un limite di popolazione che puoi aggiungere, perché ne sono 500 e poi basta. Vediamo. Aggiornamento di civiltà disponibile. Vediamo. Sviluppo economico di base. Miglioro uno sviluppo economico della tua città e garantisce l'accesso a monti nuovi edifici, unità e tecnologie. Ok. Facciamo. Adesso è come uno sviluppo di età. Siamo da un'età classica, si fa un'età in una nuova età. Quindi, ok, ci sta. Mi piace molto. Aumenta anche dei bonus per i centricità. Più venditi di salute, non di armatura, tutti gli abitanti del villaggio, che comunque è una cosa molto buona. Va bene. Bene, ok. Mancato il commento. Ci sono gli sboccati nuovi edifici e dobbiamo costruire un murino. C'è il murino, va bene. Qualcosa c'è di miglior? Il portale, il murino di pietra, ok. Mi piace che ci sono i nomi delle nuove lingue, che sono francesi, quindi la pitana del villaggio viene chiamato con il suo nome in francese. Questo dobbiamo costruire. mercato e commercio. Sviluppo forze armate di base, ma se dai facciamo, tanto non è che rifiutiamo, insomma. Preferiamo anche la chiesa. Comunque sì, è un gioco lento, che però potrebbe darti delle soddisfazioni. Questo sviluppo di forze armate ti aumenta l'accesso a montianti edifici, unità e tecnologie, ma va bene. Quindi c'è bonus sia per commercio, economia e civili, ma anche per le nostre unità. Va bene. Infatti adesso possiamo fare i lancieri, che poi probabilmente diventeranno picchieri. Ok, qua c'è il mercante, ok. Chissà se dobbiamo cominciare con il nostro centro città al mercato, oppure con un centro città al merato. Ok, adesso dovremmo costruire il tempio. Ok, anche la fattoria della fattoria non è male. Ah, ok, quindi è come sui giovaneparks, che ogni volta che finisce qui il tot di cibo, bisogna la distribuzione automatica di fattorie. Ok, poi c'è il menu mercato che puoi comprare e vendere. Invece su altri giochi, tipo la fattoria, il tot di cibo è infinito, così come su una pesca. Così da non disturbarti sempre su fare, devi fare sempre le fattorie. Devi costruire, infatti qua c'è proprio la distribuzione automatica di fattorie, che è un'ottima cosa. Tutta la mappa è un reticolato quadrato, così come su, proprio, i Geofanpires. E quindi saranno costruite le nostre città in modo geometrico, molto geometrico. Qui c'è questo mercante. Commercia con altri mercati aneati e neutrani via terra, ok. A seconda della distanza tra i mercati, ok, va bene, come su e Geofanpires, per me appunto. In caso di questa città, ok, abbiamo anche... Abbiamo il punicolo da tira. Una scuderia. E il fabbro, come è ovviamente in abilità, la difesa e l'attacco sicuramente delle nostre unità. Sai che ci costruiamo tanto. Con questo qua andiamo a prendere questa nemica. Tu puoi tornare indietro. Ok, va bene. Come tuttora che mi sta piacendo, anche se va nento, nento, però ti fa capire. Passo, dopo passo, cosa fare anche per qualcuno che erano i primi armi con questo tipo di EGTS. Che questa cosa mi piace, però per chi sa già come si gioca è un po' una noia. Però, dai. Non è male. Per quella età abbiamo delle unità che sono più efficaci contro altre unità. Vabbè, giustamente, con una cavallaniera che è stata avvistata nelle vicinanze, ci vogliono sei lancieri. Va bene. Però prima di costruire le nemure per vedere come si... Ok, ok, allo stesso modo. Geofanpires, ok. Ovviamente c'è un raggio d'azione, come potete ben vedere, dei centri di città. Più di qua non possiamo costruire, quindi qua mettiamo un avamposto. Qua ci sono i miglioramenti, come ho detto prima, di difesa e attacco delle nostre unità, giustamente, voglio dire. Ah, qua siamo al massimo, ok. Qui ci sono tre ore in ambiglio militare e ci vive. Facciamo una torre. Sperò i due. Sperano che qua è andata un posto a sto punto. Ok, no, dai. Ok, abbiamo anche una torre qui, ok. Ok, avremo fatto il nostro piccolo esercito. Ok, abbiamo i nostri anabandieri o manicini veterani. Sto vicino alla cavalliera, amica. Sì, ma dove? Da qua, ma lo sapevo. Eh, eh. Non attaccano? Strano. Stiamo in università vicino a una chiesa, giusto per... Sto vicino a noi. Sì, sì. Questo non va buona cambiata. bene abbiamo vinto vabbè era proprio semplice voglio dire questo era solo il tutorial ragazzi non farò molti non farò video così lungo ovviamente questo era solo il tutorial per farvi capire come era il gioco e in parts apart è un bel gioco sviluppato da questa case italiana Destiny Beat un buon un buon gioco per il nuovo inizio negli ETS anche se è incitato più grande su molti giocatori su partite online che però purtroppo non ci sono molte persone che ci giocano io ho supportato questo gioco ho visto ho visto i suoi miglioramenti e devo dire che è un bel gioco però bisogna apprezzare gli ETS non mi piacciono gli ETS non lo comprate perché altrimenti sarebbe uno spreco di soldi come dico chiaro e tondo in single player come potete ben vedere ci sono le sfide la sopravvivenza e schermagliatore quindi delle partite due contro due uno contro uno eccetera in cui ci sono queste sei civiltà ognuna con proprie unità proprie tecnologie proprie edifici e quindi sono molto varie tra loro io spero che questa casa produttrice aggiunga almeno una campagna per apprezzare queste queste civiltà perché altrimenti se sarà solo incendato online e in cui non ci sarà neanche nessuno non avrebbe molto senso di esistere questo gioco io spero che aggiungano o una campagna in single player o che diminuiscono ancora un po' più in prezzo durante i saldi per far comprare questo gioco a più persone che amano di RTS così da f***ce ci mette più persone nel multigioratore e fare qualche partita insieme come ho detto io ho fatto una recensione partendo dal tutorial e vi ho detto come che penso cioè che è un gioco godibile un gioco anche divertente però devi apprezzare RTS devi apprezzare i giochi e RTS io spero comunque che guardino questa mia recensione e niente ragazzi il video finisce qua spero che il video vi sia piaciuto in caso vi sia piaciuto mettete un bel mi piace se volete qualche partita su questo gioco voi me lo dite e io ve la porto non c'è nessun problema comunque veramente questo è un bel gioco veramente è il nostro compito anche da da come sia simile ad i giovanparks e agli Age of Mythology e per me sono compito in modo molto positivo infatti io vi consiglio assolutamente l'acquisto di questo gioco se per voi ovviamente ne vale una pena va bene ragazzi il video frisce qua spero che il video vi sia piaciuto ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti